15, 12, 11, 9, 8, di nuovo, di nuovo. 13, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. La ronda! La ronda! È l'assistina! Sono stato io. Fermi con le spade. Era un duello regolare. L'infame Barava. inoltre sono il maggior sergente della fortezza di Palma andiamo a parlarne dentro va bene funziona avanti avanti inoltre inoltre inoltre